Una volta si diceva movimento operaio nei confronti del tema della guerra è un vecchissimo discorso. Dobbiamo stare attenti su questo. È sempre stata un'enorme difficoltà per le forze diciamo di sinistra, tanto per intenderci, affrontare questo tema. Basti pensare alle grandi tragedie del passato. Il movimento operaio storico è saltato per aria di fronte al problema della guerra. L'internazionale a cui appartenevano Engels eccetera collassa di fronte al tema della guerra. Il tema della guerra è di rimente. È una tragedia che occorre saper affrontare soltanto col più grande realismo prima di tutto perché nulla è più dannoso ad un discorso di costruzione di pace di un pacifismo onirico. Quindi la mia lezione prima di tutto se volete la mia conversazione sarà una piccola lezione di realismo. Altrimenti non si va da nessuna parte. La guerra, le guerre, non vi è la guerra. Come diceva Marx non vi è il capitale, messie le capitale diceva, Madame la guerre. Vi sono tante guerre, vi sono state tante guerre. L'Europa, il mondo, hanno conosciuto tante forme di guerra diverse le une dalle altre. E quella che noi adesso viviamo è una forma di guerra del tutto particolare, ma per intenderla permettetemi di rifarmi a dei grandi paradigmi, dei grandi modelli del passato che mi permettono anche di andare a criticare quest'idea di giusta guerra che ritorna incredibilmente, prepotentemente oggi, ma che è un'idea del tutto teologica. Si parlava di giusta guerra dall'inizio, i romani, i greci non parlano di giusta guerra, non c'è questa idea. L'idea di giusta guerra comincia col cristianesimo, perché? Ma perché è evidente, perché un cristiano fa fatica a giustificare la guerra, no? Per un cristiano giustificare la guerra fa un po' problema. Allora, duemila anni fa, come adesso, e allora per giustificarla, giustificarla, bisogna trovare il modo di dire che questa guerra è giusta. Iustum bellum. I romani, i greci, non avevano un'idea di giusta guerra. Per loro era del tutto naturale la guerra. Sia chiaro. I greci, i romani ritengono la guerra del tutto naturale, il che non vuol dire che la guerra sia una rissa, una caccia, una baruffa. No, deve essere dichiarata, sia per i romani che per i greci, ma per i romani in particolari rite, rite, secondo dei veri e propri rituali. Non poteva essere il senato che andava lì e dichiarava guerra a uno. Doveva passare attraverso i pontefice, il collegio pontificale che doveva fare tutti i suoi riti e diceva al generale, al senato, va bene, questa guerra, ok, falla. E c'era tutto un rituale. Ma nessuno si sognava di dire il bellum per i romani, questo è interessante, il bellum per i romani è sempre nefandum, questo è interessante. Ha sempre a che fare con il nefas, non con il fas, ma con il nefas. In Virgilio bellum è sempre aggettivato con nefandum, ma non perché la guerra è che cosa tremenda, la guerra è assolutamente naturale, ma nefandum, cioè non fa parte del fas, è qualcosa che viola un ordine al limite cosmico, perché uccide un altro è violare qualcosa che ha a che fare appunto con un ordine cosmico. Quindi è nefandum, quindi anche per i romani certamente meglio non fare la guerra, fino a quando è possibile non si fa la guerra, tanto è vero che i romani quando si presentano davanti a una città per assediarla, non è che l'assediano, cominciano a dire arrendetevi, arrendetevi. Cominciano a chiamare gli dei della città fuori, è molto interessante tutto questo, evocare Deus, dicono voi dei di questa città non vedete che non sanno difendervi, venite da noi, venite da noi, noi vi accoglieremo e con noi sarete davvero forti, mentre se continuate a stare con questi poveretti che stiamo massacrando, chiaramente non varrete più nulla e sarete dimenticati. Quindi tutta una serie di accorgimenti, se volete, ma che sono essenziali. Il problema della giusta guerra comincia con i cristiani. E allora, per farla breve, sarebbe divertente avere il tempo, ma insomma, per farla breve, occorrono, questo vale per Agostino, ma ancora più per Tommaso e per tutta la scolastica medievale. Sono concetti centrali che regolano i rapporti culturali, politici, da un punto di vista anche di diritto, per qualche secolo. Quindi fondanti, diciamo, la civiltà europea. I criteri fondamentali per dire la giusta causa sono grosso modo, dalla tarda antichità fino al 300, fino alla nuova filosofia dello Stato moderno, che da inizio al diritto, alla politica, al concetto della filosofia politica moderna, cioè a noi sostanzialmente, quindi per mille anni, sono sostanzialmente questi. La guerra deve, per essere legittima, legittima, deve essere giusta e deve quindi rispettare questi criteri. Il primo, deve essere dichiarata dal principe, non è guerra quella che fanno i ladroni tra di loro, principes, principes faci du bellum, non ladrones, deve essere dichiarata dal principe, cioè dall'autorità legittima, dall'autorità, o meglio legale, dall'autorità legale. Qua bisognerebbe fare una differenza tra il concetto di legalità e legittimità, che è fondamentale per esempio per tutto il pensiero rivoluzionario, perché il pensiero rivoluzionario dice la guerra rivoluzionaria è giusta, perché? Perché combatte un'autorità che non è legittima, sarà legale ma non è legittima. Il problema della guerra, prima si diceva, il grande problema che ha il movimento operario europeo con la guerra è presto detto, voi lo capite benissimo, cioè che nulla è meno pacifista del pensiero di Marx e di Lenin. Molto semplice, quindi come facciamo a mettere d'accordo questa tradizione fondamentale del marxismo con il pacifismo? Impossibile, semplicemente impossibile. Questo dovete averlo presente, ben chiaro, è assolutamente impossibile, perché la rivoluzione non è la guerra, attenzione, questa è la differenza fondamentale tra, diciamo così, un leninismo da catto e Gramsci. La rivoluzione è un processo, una dinamica, la rivoluzione, faccio salire l'oceano. È una dinamica rivoluzionaria, per cui creo consenso intorno alle mie idee, eccetera, eccetera. Però sia per Marx che per Lenin la rivoluzione alla fine deve finire in guerra civile, cioè in guerra, è chiaro? Si può essere d'accordo o non d'accordo, ma non si può assolutamente dire né marxisti, né leninisti, se non si sa questo. La rivoluzione non è la guerra civile, ma la rivoluzione prepara la guerra civile. Ci può essere rivoluzione senza guerra civile? Sì, se gli altri si arrendono senza bisogno che faccia la guerra civile. E allora da qui la posizione di tanto movimento operaio. Faccio arrendere gli altri attraverso un processo di riforme, eccetera, eccetera. Uso delle strutture democratiche per fare la rivoluzione, rivoluzione democratica senza guerra civile. Vedete che tornano tutti i concetti fondamentali che hanno fatto la storia del movimento operaio europeo? Si può fare la rivoluzione senza guerra civile? No, impossibile, non si può fare la rivoluzione senza guerra civile. Il movimento operaio è un altro avanti un secolo e mezzo a dividersi su questo, a dividersi su questo. Naturalmente chi poi è emerso è quello, è la posizione appunto sostanzialmente riformista, quella che è emersa dal punto di vista della maggioranza, no? Quella che dice è possibile una rivoluzione in un modo o nell'altro senza guerra civile. Non sono idee, qua ci sono tanti giovani, non sono idee, no? C'è stata la tragedia del movimento operaio italiano tra gli anni 60-70 che si è consumata su queste questioncelle, stati gli anni di piombo, stati questioncini come le brigate rosse, eccetera, eccetera, che ci sono intorno a cui si è non discusso ma combattuto intorno a queste idee. Ma torniamo al tema. Allora, prima ragione della guerra giusta che si è dichiarata dal principe. Secondo, secondo, che sia giusto il fine e su questo discutiamo. Terzo, la recta intensio, fondamentale, cioè io faccio la guerra per avere la pace. Quindi faccio la guerra soltanto contro coloro che non vogliono la pace. Quello non vuole la pace. Dichiaro che bisogna fargli la guerra perché io sono pacifista, voglio la pace, se c'è uno che vuole fare la guerra devo combatterlo. In mezzo la questione, perché queste due ragioni della guerra giusta sono facilmente comprensibili. In mezzo ci sta la questione. Quale giustificazione per la guerra, oltre appunto all'essere dichiarata secondo legalità e ad avere una intenzione pacifista, e qui le questioni diventano un intrico di contraddizioni, nelle quali ci muoviamo tuttora. Incredibilmente ci muoviamo tuttora. sono ritornate perché vedremo che sono ritornate perché hanno state liquidate dal pensiero politico e del diritto in epoca moderna. E quali sono? La difesa? Non si discute. Se uno mi attacca devo difendermi. Attenzione però, perché devo essere così scemo da aspettare di essere attaccato per difendermi? Mi pare un'assurdità totale. Perché io posso benissimo comprendere che l'altro si sta preparando ad attaccarmi. E quindi non solo ius defensionis, ma anche ius prevenzionis. Ho il diritto o no di prevenire l'attacco? Logico che l'ho. In base a quale logica posso dire che non l'ho. Devo aspettare fermo che l'altro mi attacchi quando sono certo che sta preparandosi all'attacco. Quindi lo ius defensionis si slarga subito. Perché è logico che questo avvenga. Non ha nessuna struttura logica in sé. un rigido diritto di difesa. Deve comportare anche una qualche forma di ius prevenzionis. E poi un'altra questione molto divertente e interessante che emerge in quegli anni e che ritorna in forma diversa continuamente anche oggi, la defensio innocentium. Difendere gli innocenti. Io sono un buon sovrano, un buon principe. Vedo che, noi diremmo adesso, i diritti umani sono violati da qualche parte è perché non devo accorrere in soccorso degli innocenti che vengono fatti soffrire dal tiranno, che vengono fatti soffrire, eccetera, eccetera. Ho il diritto di intervenire. Il diritto di difesa degli innocenti. Ci sono condizioni intollerabili di servitù, di schiavitù, eccetera, eccetera. Quel povero popolo è sotto un dittatore ferato, lo libero. Guerre di liberazione. Non guerre di liberazione del popolo all'interno come un risorgimento nazionale, ma guerre di liberazione che un potere sovrano, che uno Stato, diciamolo pure subito, opera nei confronti non di un altro potere, ma di innocenti che patiscono un potere. Questa teologia politica, presso di concetti teologici, che era stata tratta sostanzialmente dall'interno dell'elaborazione teologico e filosofica cristiana, come dicevo, necessariamente, perché appunto il problema di giustificare la guerra è fondamentale per una religione che ha come testo base quello, no? Dove si dice addirittura, porgi l'altra guancia e ama il nemico. E' dura giustificare la guerra, no? Arduo compito teologico, in cui si cimentano tutti i grandi geni della teologia cristiana, no? I colossi della tradizione, da Agostino a Tommaso. E viene fatta fuori dalla filosofia politica moderna, a partire da Marsiglio, Machiavelli, il grande Machiavelli, no? Io spero che tutti voi siate lettori di Machiavelli, no? Perché se non c'è Machiavelli sul comodino, mettete Machiavelli e Spinoda sul comodino e poi non c'è bisogno che leggiate altro. Ma quei due là, sì. Allora, Machiavelli cosa dice? Sono tutte palle, sono tutte palle. Sono tutte palle. Perché si fa la guerra? Ma perché ci sono gli stati. E gli stati sono volontà di potenza. E gli stati, in quanto tale, vogliono allargarsi. Vogliono diventare più forti. E non puoi diventare più forti stando all'interno di te. Rafforzarsi vuol dire allargarsi, potenziarsi. E quindi entri necessariamente in conflitto. La politica è conflitto. E nelle forme del conflitto rientra inevitabilmente la guerra. E allora che cos'è questo giustum bellum? Fregnacce da teologi. Silete teologi. State zitti teologi. Questo campo è campo dei politici e dei giuristi. In che senso anche dei giuristi? E qui il grande allievo in campo giuridico di Machiavelli è Alberico Gentili. È un genio italiano della fine del Cinquecento, da cui attinge abbondantemente Grozio il grande trattato fondamentale dei Urebaci Setbelli, che è successivo. Perché anche i giuristi? Perché i giuristi dicono che la guerra deve essere iure. Certo che deve essere iure la guerra. Ci deve essere un diritto ad bellum, e che è sostanzialmente quale? Quello che appunto la guerra per essere guerra, bellum, non più iustum bellum, la guerra per essere giustificata, non è più iuste, ma iure. La guerra, cioè deve essere dichiarata in modo legittimo, deve essere dichiarata in modo, diciamo meglio, legale, cioè dichiarata legalmente, da uno stato sovrano a un altro stato. O per dirlo in termini più tecnici, da un organismo statuale perfetto, cioè integro in sé, autonomo, che non dipende da altro, a un altro stato. La guerra è iure, avviene secondo questo diritto, lo stato ha diritto, in quanto stato, perché sta nella sua natura, nella sua natura di stato, ha il diritto iure di dichiarare la guerra a un altro stato. E allora che cosa, qual è il paradosso che salta fuori di fronte a cui i teologi medievali sarebbero inorriditi? Che la guerra è giusta da entrambe le parti, da entrambe le parti, perché sono tutti stati, gli stati si dichiarano guerra, iuste, cioè nel senso iure, secondo diritto. Attenzione, questo grande sistema, che non esclude un ritorno anche all'idea di guerra giusta, ingrozio, in Alberico viene fatto fuori, i Machiavelli non parliamo noi neanche, ingrozio, torna in qualche modo anche l'idea di qualche giustificazione. Ma sostanzialmente il modello è questo, la guerra è guerra tra stati, tra stati, all'interno degli stati vige la violenza legittima dello stato, ogni sedizione, ogni sommossa va repressa attraverso che cosa? Ma attraverso la polizia, ogni sedizione interna, i greci dicevano stasis, insurrezione, stasis, deve essere trattata dalla polizia come la polizia tratta chi? I criminali, i criminali, ma tra stati non ci sono criminali, capite la differenza fondamentale rispetto a un certo clima attuale? Tra stati non ci sono criminali, lo stato che io dichiaro la guerra è un altro stato, riconosco quello stato in quanto stato, è uno justus hostis, non perché dica che ha ragione, no perché gli dico che è stato, che è stato, gli riconosco la legittimità di essere stato, non è un criminale, non è un bandito, è uno stato. E quindi, siccome io sono stato e tu sei stato, la giustizia può essere, l'essere giusti, ma nel senso giuridico del termine, sta da entrambe le parti. Da entrambe le parti la guerra può essere condotta giuste, cioè iure, questo è il modello. Attenzione, questo vige tra gli stati europei, tra gli stati europei in Europa, dalla pace di Vestfaglia fino alle guerre napoleoniche, quindi un periodo breve, ma questo modello vige e tiene, ed è un grande modello giuridico santificato dai nomi come quello di Alberico Gentili o del Grozio, del Puffendorf e di tanti altri, ma all'interno dello spazio europeo, perché fuori di questo spazio europeo, allora era l'epoca di che cosa? La madre delle conquiste del mondo. L'Occidente, dal Cinquecento alla fine del Settecento, aggredisce il mondo, come dicono anche grandi autori di destra, che usano appunto questo termine. L'Occidente è il grande aggressore del mondo, assali il mondo, assali il mondo. E nello spazio europeo, vige il modello che vi dicevo, fuori dello spazio europeo, è il bellum come, non duellum, ma come belva, a dirle come Cicerone. Cicerone diceva, ma sto bellum da cosa viene? Da bellua o da duellum? Viene da duellum, etimologicamente. Però interessante, sarebbe divertente, ma sarebbe divertente vedere come mai nelle lingue europee, nessuna lingua europea dice guerra a partire da bellum. E lo diciamo a partire da un termine alto tedesco, che è verre, var, da cui var, wo, inglese, è la stessa parola di verre, alto tedesco, e che è la parola tedesca, la parola germanica. Perché? Ma perché già all'epoca dei romani vedevano che la guerra che dovevano fare con i germani, con i galli, con i germani, non era duellum, era proprio war, verre, era proprio massacro. Basta leggere il bello gallico di Cesare, per vedere la differenza tra come si fa la guerra ai germani e ai galli e come la fanno il bello civile, il bellum civile tra Cesare e Pompeo. Completamente diverso. Quindi fuori dello spazio europeo massacro. Non solo massacro perché fanno fuori appunto genocidi, i grandi genocidi, ma anche tra di loro, perché spagnoli, francesi, inglesi si massacrano in modo inenarrabile fuori dello spazio europeo. Massacri continui inenarrabili per due secoli, ma nello spazio europeo vige questo modello, in qualche modo, fino alle guerre napoleoniche. Nelle guerre napoleoniche, tu hai le guerre napoleoniche, si giustificano come? Ma si giustificano in base a una giusta causa, grande come una casa, una monumentale giusta causa, talmente giusta che influenza potentemente anche i cittadini e l'intelligenza degli altri paesi. Perfino i prussiani continuano a essere in qualche modo delusi da Napoleone quando diventa, si fa di nominare imperatore, però Goethe non sconfessa mai la sua ammirazione per Napoleone, nemmeno dopo la campagna di Russia. Quindi con potenti capacità di influenza dell'intelligenza europea, italiana, austriaca, prussiana. Napoleone, la monumentale giustificazione di Napoleone ha a che fare con quello che vi dicevo prima, cioè la mia guerra è una guerra di liberazione dei popoli. Questa è la giustificazione della mia guerra, è un bellum justum, non soltanto iure, ma justum, nelle sue motivazioni di fondo. Perché io combatto i tiranni, i tiranni, e libero i popoli. Quindi gli altri non sono justi hostes, no, perché non sono assolutamente legittimi. Nego legittimità al nemico. Quindi l'ostilità è un'ostilità fortissimamente motivata, diremmo dal punto di vista ideologico, ma dove ideologia ha valore strutturale, non è un pensierino che sta sopra a condire le cose, ha un valore fondamentale, ha un valore fondamentale. Queste mie armate sono armate di liberazione. Non sono armate di occupazione, non sono conquiste territoriali, ma sono appunto abbattimento di tirannidi. Cambia completamente il clima. Ritorna, attenzione, ritorna con la restaurazione. La restaurazione cerca di essere restaurazione dopo la caduta di Napoleone, anche da questo punto di vista, nel senso che riprende idee precedenti. Riprende idee precedenti e quindi tra gli stati si riconoscono reciprocamente come legittimi tutti. Cercano di farlo, ma dura poco e malamente. Dura sostanzialmente, crolla definitivamente questo modello con la prima guerra mondiale. Con la prima guerra mondiale, molto più che con Napoleone, ha il fenomeno di assoluta criminalizzazione del nemico. Il nemico viene criminalizzato. Al limite estremo, cioè il nemico è nemico perché non è umano. Neanche perché è tiranno, come nel caso di Napoleone che poi sposava la figlia dell'imperatore asburgico, eccetera. Neanche che lì non erano legittimi, non erano justiostes, ma comunque nessuno si sognava di ritenere che gli imperatori di Prussia o lo Zar fossero disumani. La propaganda, ma non è propaganda badate, sono questioni che valgono immensamente nel capire che cos'è la guerra contemporanea. Sono fondamentali per capire la natura della guerra contemporanea. Con la prima guerra mondiale, la denuncia tra le due parti è una denuncia sulla base di questo concetto. Tu non sei umano, tu non appartieni al genere umano, tu violi diritti umani, ergo non sei umano, sei inumano. E il tuo comportamento in guerra, in bello, è inumano. La criminalizzazione del nemico è questo formidabile apporto, in particolare della prima guerra mondiale. Non era concepibile prima, neanche nelle guerre napoleoniche, nel modo più assoluto. Napoleone giunge a dire che il regime russo è barbaro, ma è quasi un modo di dire. Non è, non ha, mentre la barbarie, gli altri sono barbari, diventa una questione che struttura, struttura la politica durante la prima guerra mondiale, l'agire politico durante la prima guerra mondiale. Quindi il tema della giusta causa torna alla grande, perché è giusta la mia causa, in quanto io combatto coloro che negano i diritti umani, umani. Questa è la situazione. E questa situazione viene, come dire, sembrava finalmente, non dico risolta, ma congelata dopo la seconda guerra mondiale. Avevamo a che fare, sembrava che avessimo a che fare, questa era la vulgata che ormai è dominante, no? Con un nemico assoluto che è stato sconfitto, una guerra totale, perché appunto quando io ho a che fare con l'inumano, non posso andare a patti con l'inumano, pace, patto, no? Mai dimenticarsi la radice della pace. Se ragioniamo realisticamente dobbiamo sapere che pace vuol dire patto. Patto, non risoluzione del conflitto, non eliminazione del conflitto. Non può avere nulla di sacrale e religioso il termine pace. Se vogliamo ragionare realisticamente, politicamente, pace è patto. Ora naturalmente però se io dico che tu sei inumano, con te non posso fare patti, perché non faccio patti con l'inumano. Devo negarti. Guerra assoluta. Nella seconda guerra mondiale il modello sembrava funzionare, perché avevamo a che fare, diciamo questa è stata l'interpretazione assolutamente dominante, sulla quale è anche inutile discutere, le potenze hanno combattuto, e in particolare America e Unione Sovietica hanno combattuto contro un nemico assoluto, inumano, e l'hanno negato. Bene, fine, sembrava che dovesse riaprirsi un momento in cui appunto vi fosse un patto, pace, patto, di mutuo riconoscimento tra stati che si riconoscevano in quanto tali. Questa è stata l'idea che è prepotentemente emersa in tutti i pacifismi veri, politici, realistici, non unirici, dopo la seconda guerra mondiale. Sembrava che questa fosse la prospettiva che si apriva. Invece era illusoria. Perché era illusoria? Perché occorre stabilire, occorreva stabilire con precisione, e sembrava che anche questo fosse stato fatto, che cosa? Perché adesso arriviamo al problema nostro. Che cosa? Ma una partizione del globo. C'è poco da fare, amici. Dopo la seconda guerra mondiale sembrava che appunto una prospettiva di pace, patto, potesse reggere sulla base di una spartizione del globo tra le potenze vincitrici. L'Europa era incerta, ma sostanzialmente neanche tanto, perché appunto sì, c'erano dei movimenti nell'Europa occidentale, ma anche l'Europa era la Germania, fondamentalmente, chiaramente divisa, e il mondo era il mondo occidentale, più la Cina, che ancora allora non poteva esprimersi in nessun modo come politica di potenza. Quindi una spartizione incerta, se volete, ma sufficientemente stabile. A retto, a retto, perché la guerra fredda è nient'altro che l'immagine della spartizione del globo secondo queste caratteristiche. Un autore, forse quello che capisce di più di queste cose, appunto, chiama, con il suo libro fondamentale, il nomos della terra, in generale. Nomos non nel senso della legge, eccetera, ma nomos nel senso etimologico, la spartizione della terra. La spartizione della terra. Sembrava reggere, ma era conflittuale, era una dinamica, non era la pace perpetua. Se abbiamo tempo poi discutiamo un po' di queste idee di pace perpetua, perché sono importanti. Non era la pace perpetua, era un patto che si reggeva sulla base appunto della soluzione che era stata data alla grande guerra europea del Novecento dai due vincitori, Stati Uniti e Unione Sovietica. Ma era fragile, era dinamica. Perché? Perché le eseguzioni che Machiavelli diceva, perché gli stati, qualunque sia, anche gli imperi, sono degli organismi che tendono ad aumentare, a trasformarsi ed aumentare, a crescere la propria potenza. E quindi, fino a realisticamente vedere quali patti siano realizzabili. E quindi, quel patto è venuto meno perché una delle due potenze, per motivi che se volete poi discutiamo, è stata fatta fuori. La guerra fredda ha avuto una fine e un vincitore inequivocabile. Inequivocabile. Vincitore per motivi tecnici, economici, culturali, quello che volete. Si vince sempre perché anche l'altro commette fesserie, benissimo, quello che volete. Però c'è stata una conclusione. Una conclusione. Questa conclusione, quel nomos della terra, quella spartizione della terra, non poteva più valere. E a quel punto c'erano due strade davanti. O quella, la terra è piccola, è diventata piccolissima e non c'è posto che per un padrone. Ma a quel punto era ben difficile perché già emergeva un terzo incomodo potente, la Cina. Oppure si si muoveva su una strada davvero di, ma in termini proprio letterali, di federazione mondiale. Cioè un assetto del globo terrestre su base federativa. Cioè attraverso feder, a patti, riconoscendo il carattere multipolare che ormai la configurazione politica di questo globo aveva assunto. Non c'erano altre strade. O ci si muoveva sulla strada del governo di uno solo, oppure ci si muoveva in quell'altra strada. Non ci si è mossi su questa seconda strada. E' pacifico, è tecnicamente pacifico. Non c'è stato nessun soggetto forte abbastanza per indurre le grandi potenze a muoversi su quella strada. Ci si è mossi sulla strada del governo, del dominio del governo di uno solo. Di un nomos della terra sostanzialmente fondato sulla egemonia, sul primato di una potenza. Questa non è critica a niente, a nessuno. Credo che sia una constatazione del tutto realistica. Non c'è stato nessun trattato di pace alla fine della guerra fredda. Non c'è stato alcun patto. Tutto si è evoluto, si è svolto sulla base di rapporti di forza. Io ho la forza di mettere i missili dove voglio, io ho la forza di far entrare nella Nato tutti i paesi che voglio e lo faccio. E non c'è niente da fare. E l'altro o lo subisce o reagisce e vede lui come reagire. Questa è la situazione. Perché alla fine della terza guerra mondiale, la guerra fredda, cosa assolutamente inedita, perché tutte le guerre sono sempre finite con armi contrattati, eccetera, eccetera. Quella guerra invece è finita così. E' finita così, con la dissoluzione dell'impero sovietico e con la resa incondizionata, senza lotta, dell'impero sovietico e il tentativo di dare un nuovo nomos alla terra sulla base dell'egemonia americana. Non poteva riuscire, non poteva riuscire per due ragioni. Primo perché c'era la Cina e gli Stati Uniti dovevano per forza entrare in un modo o nell'altro a patteggiare, se ci riuscivano, con questa nuova potenza. La cui potenza anche tecnologica, come sapete, ormai documentata, cresce di giorno in giorno a dismisura. Non è più soltanto una potenza militare, numerica, quantitativa, ormai anche potenza tecnologica. E le future guerre, se ahimè ci saranno, saranno combattute su quel fronte più che su qualsiasi altro. Quindi la Cina è... E poi la Russia, perché la Russia continua ad essere una federazione di decine di repubbliche, Un territorio immenso, l'unico che abbraccia due continenti, ed era complicato pensare che la Russia potesse, dopo Yeltsin, subire e basta qualsiasi decisione provenisse dall'altra parte. Era difficile pensarlo. Naturalmente, voglio dire esplicitamente la mia opinione, la Russia non aveva alcun strumento dopo la sconfitta. La sconfitta vera, pesantissima, costata sacrifici immensi al popolo russo. La guerra fredda ha costato sacrifici immensi al popolo russo. Non paragonabile a quelli della seconda guerra mondiale, ma pesantissimi. Non poteva la Russia, dopo una sconfitta di questo genere, pensare di poter impedire tutto quello che avessero deciso e voluto dall'altra parte. Era assurdo. Potrebbero essere soltanto degli irrazionali colpi di coda, come quello a cui abbiamo tragicamente assistito, che provocavano ulteriori collassi al suo interno, ulteriori indebolimenti al suo interno, perché la Russia oggi, dopo l'invasione, è infinitamente più debole di prima, non più forte. Infinitamente più debole, e dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista economico, eccetera, eccetera. Quindi, non potevi impedire, come volevi impedire, se i nuovi paesi dell'Europa orientale vogliono entrare nella comunità economica europea, vogliono entrare nell'Unione Europea, vogliono entrare nella Nato, come cavolo vuoi sognarti di impedirglielo? Sono stati sovrani e fanno quello che vogliono. E devi incassare, oppure devi cercare diplomaticamente, politicamente, avrai altre carte. L'ultima delle carte da usare è quella militare, in queste condizioni. L'ultimissima carta da usare. Qui, secondo me, siamo in presenza anche di un errore strategico, di intelligence, eccetera, clamoroso, ma non è questo che interessa. Interessa che cosa? Interessa che siamo alla fine di un nomos della Terra, alla fine radicale ormai di una partizione politica nelle aree del globo, in una situazione su una faglia conflittuale che è a un passo dalla catastrofe e non c'è nessuna voce, a differenza anche di 30-40 anni fa, nessuna voce all'interno della politica mondiale, ma parliamo in particolare dell'Europa, che avanzi uno straccio di proposta per andare a patti, per andare a patti, e cioè per dare un nomos a questa Terra. Questo è il dramma, questo è il dramma. E badate, non poteva essere che l'Europa questa, perché la Russia era nelle condizioni che vediamo. Gli Stati Uniti hanno questa loro politica e probabilmente nella loro strategia è la sistemazione definitiva, inequivocabile della loro egemonia su tutto il continente europeo per poter affrontare con armi valide il conflitto epocale che sarà con la Cina, perché quello sarà la madre di tutte le battaglie, comunque verrà combattuta, quella sarà. Quindi probabilmente gli Stati Uniti vogliono appunto essere certi che sul fronte europeo, eccetera, e quindi con la Russia, i conti sono definitivamente risolti. Ma questo è un rischio pazzesco, perché possono essere definitivamente risolti soltanto sfasciando la federazione russa. Soltanto sfasciando la federazione russa. Indebolendo la Russia fino al punto che tutti i diversi Stati che attualmente la compongono rivendicano autonomia statuale vera e propria. Come è stato nel caso dell'Ucraina, della Lettonia, dell'Istuania, eccetera, eccetera, di tutti gli Stati che in una sera si sono formati intorno al focolare di Yeltsin. Questo è il dramma. L'Europa era l'unica possibilità che avevamo, per quello tanto anche con voi, ricordo dibattiti anche a Radio Sherwood con Tony Negri, con altri, certe cose di Tony Negri a questo proposito. L'Europa è necessaria, necessaria, sarà anche possibile? Sarà anche possibile? Questa è la domanda. Necessaria perché? Perché in una situazione come quella che ho descritto o vi sono potenze cuscinetto, sapete, è come un meccanismo, è come una macchina, sapete, i cuscinetti della macchina, oppure i liquidini che abbiamo noi tra le ossa in modo che le ossa non vadano a stridere le une contro le altre. Ecco, un organismo funziona se ci sono questi accorgimenti. quindi nel conflitto tra le grandi potenze sarebbe necessaria una voce che non può essere che europea, non può essere che europea per cultura, per storia, per tradizione, che inviti costantemente, elabori costantemente, piani per la pace nel senso vero, reale, autentico del termine. e poteva essere solo l'Europa. E 20-30 anni fa, fino a 30 anni fa, diciamo, fino alla guerra in Iraq, perché lì è cominciato il tracollo, no? Di fronte all'inaudita guerra in Iraq, invasione, altro che i diritti umani, altro che i just defensiones, eccetera, eccetera, altro che diritto di difesa, altro che tutte le balle della teologia politica che prima vi ho raccontato, lì l'Europa, sostanzialmente la politica europea, è stata assolutamente complice. Non era necessario, perché in precedenza la politica europea è stata anche una politica autonoma. Non è che quando Brandt inventa l'host politique gli americani fossero contenti, non è che quando Moro o altri andavano a parlare con Arafat gli americani applaudivano. Abbiamo visto alcune cosette in questo continente, anche in Italia, quindi anche c'è stata una storia di autonomia della politica estero-europea che poteva far sperare che l'Europa fosse questa voce che invitava al patto e alla definizione di un nuovo nomos della terra. Ci poteva essere ragionevolmente questa speranza, è naufragata, non è naufragata oggi, perché era già evidente che stava naufragando appunto all'inizio del 2000, quando ci fu soprattutto dopo la guerra appunto in Iraq. Questa è la situazione che abbiamo di fronte. Questa è la situazione che abbiamo di fronte. Come finirà la guerra? Non lo so, finirà. ma se vogliono, se la Russia si ritira sui suoi confini, perché mi pare che questa sia la condizia se ne qua no, se non si ritira sui suoi confini, se non ritira dei territori che aveva, diciamo, invaso, la guerra continua e con tutti i rischi che questo comporta. Se si dovesse ritirare, forse, lo spazio per un patto avviene. Ma questo non significa un nuovo nomos della Terra, non significa una nuova configurazione degli spazi politici mondiali e globali. E dobbiamo ragionare in questi termini. Dobbiamo ragionare in questi termini. Non c'è la guerra in Europa, la guerra qui, la guerra lì, c'è la guerra nel mondo. E' una guerra nel mondo che sempre più si configura secondo aspetto di guerra civile. Perché cos'è che caratterizza la guerra civile rispetto alle altre guerre? Tante cose, ma una in particolare. La guerra civile è caratterizzata dal fatto che l'inimicizia è totale. Questa è la guerra civile, no? Nella guerra civile l'inimicizia è totale. Perché lì ne va di che cosa? Quando faccio la guerra civile, ne va di che cosa? Della fondazione di un ordinamento totalmente nuovo. Cioè non faccio la guerra civile, se voglio una riformetta. Se arrivo alla guerra civile è in gioco un ordinamento completamente nuovo. E sull'ordinamento completamente nuovo la differenza tra le parti non può che essere totale. E quindi è l'inimicizia. Appunto questo è il carattere che sta assumendo la guerra, è il carattere di inimicizia totale, di non riconoscimento in alcun modo dell'uno e dell'altro. Quindi è difficile giungere a un patto in queste condizioni, estremamente difficile. Però è quello che dobbiamo tentare di fare, è quello su cui dobbiamo tentare di ragionare. Perché i rischi appunto di continuare nelle dinamiche attuali sono immense. fatto un patto è chiaro che nella configurazione globale del mondo attuale rimangono aperte contraddizioni pazzesche. Perché? Perché anche ammesso che si possa aggiungere un patto ora in questa guerra che non comporti la deflagrazione della Federazione Russa perché allora i rischi sono tornano a essere immensi anche qui in Europa si apre il capitolo Cina. Infatti se notate adesso si sta riparlando di questo, no? Anche a questo vertice a Nuova Delhi il tema vero più che la guerra in Ucraina è il rapporto con la Cina e la garanzia che devono dare tutti gli stati europei che basta rapporti con la Cina. Marcia indietro completa 10-15 anni fa la famosa via della sete eccetera marcia indietro completa tutti gli stati europei che si riallinano su quella che era la linea della politica estraamericana 10 anni fa sia dei democratici che dei repubblicani perché contro la Cina sono assolutamente alleati ovviamente perché gli sono interessi vitali dell'impero americano e quindi che c'erano democratici e repubblicani nulla muta sostanzialmente. Quindi quello è lo sfondo su cui dobbiamo proiettare tutte le nostre analisi sulla guerra attuale. Se ce la sfanghiamo da questa ci sarà quest'altra e forse quello sarà il vero conflitto il vero polemos però ora dobbiamo affrontare questa e dobbiamo affrontare questa cercando di dare tutte le nostre voci che cosa alla razionalità a una linea razionale realistica per giungere appunto ad un patto che può passare soltanto attraverso la cessazione del no appunto alla guerra continuare ad armare la guerra datevi da fare non per le armi ma per la pace patto datevi da fare non perché la guerra continui ma quando mai si è visto che ci si sa da fare perché la guerra continui ci si sa da fare perché la guerra finisca e allora qual è la tua voce europea perché la guerra finisca difficile trovarla per tutti i motivi che ho detto ma necessario perché anche per una conseguenza molto semplice che dobbiamo avere ben presente la guerra semplifica tutto amico nemico cosa vuol dire questo vuol dire che questo vale anche all'interno sapete cioè la continuazione di uno stato di guerra non è senza influenza all'interno di diversi stati che sono in guerra non so se è chiaro la continuazione di uno stato di guerra vuol dire che sia in guerra anche qui e quindi che voi le opinioni di questo di quello cominciano a essere fastidiose perché uno stato in guerra non può ammettere tanta dialettica e tanto dibattito al suo interno silient legis in bello avete capito questa è la regola tacete voi leggi durante le guerre durante le guerre c'è l'emergenza durante le guerre c'è l'eccezione durante le guerre c'è il potere esecutivo che decide non c'è tempo per discutere per chiacchierare in guerra si combatte silient legis guardate che questa traiettoria è inevitabile se non fermiamo questa guerra inevitabile e quindi c'è anche diciamo così un interesse politico nostro interno perché già come tu dicevi giustamente le opposizioni eccetera eccetera ma dove sono emergenze dopo emergenze dove sono finite ma questa è l'emergenza con la maiuscola e se continuo ancora a lungo le leggi cesseranno e la parola passerà a chi comanda più o meno democraticamente grazie